Si avvicina la resta dei conti nell'EPD e si moltiplicano gli incontri nei territori. Noi abbiamo incontrato Rosario Bressi, che rappresenta nella federazione provinciale di Catanzaro l'area che sostiene Matteo Renzi, candidato alla carica di segretario nazionale del Partito Democratico. Bressi, dirigente provinciale e regionale dell'EPD, è stato delegato da Renzi a rappresentare la sua mozione nel territorio e quindi alla presentazione delle candidature nelle convenzioni di circole per la designazione del rappresentante della mozione Renzi nei circoli PD della provincia. Sì, è un'occasione importante. Siamo in una fase congressuale e tutte le occasioni che ci consentono di discutere, al di là delle mozioni, sono appuntamenti importanti. Io credo proprio di sì. Credo che, sebbene sia una convenzione provinciale, credo che debba essere necessariamente un momento di confronto, di unità, di condivisione e di mobilitazione per le prossime elezioni comunali. Il popolo democratico della provincia di Catanzaro ha sempre risposto in modo massiccio nelle occasioni importanti. Io non avevo alcun dubbio che anche oggi ci fosse questa bella partecipazione. Io non avevo alcun dubbio che anche oggi ci fosse questa bella partecipazione.